insomma uomini fratelli della congrega come va a posto voi state sempre lì appostate criticare me forse troppo impostato sto renderizzando un video video in cui direte cantarmi vi incanterete canto in maniera incantevole non lo so sì sarò al festival ieri realizzando un video anzi scartablando di memorabilia non voglio meravigliarvi voi uomini senza memorie si si plurale di memoria bisogna rammemorare ecco rinvenne questo libro 63 siamo senti nazionale d'arte cinematografica leone d'ora la carriera ma porsche raider no quest'anno david winch lo sfoglierò un po un libro molto gustoso diciamo da divorare da leggere da introiettare da respirare la celluloide la sintesi fotosintesi fototessera clorofiliana dobbiamo essere sintetici e non perderci in digressioni senza delirare oltremodo in modo e in maniera inenarrabile non dobbiamo perdere il centro il fulcro nevralgico della narrazione io mi do anche la narrativa il prossimo video sarà un momento incentrato su questo cosa c'entra c'entra c apostrofo entra lei non ha centrato nulla ora io accentro tutto su di me ovviamente perché la merita miei conigli vi ricordate quei conigli che guardavano la tv in irland imparate studia e impara mettiti in pari io sono in pari come sto lì al contrario difficile reggere che cosa me supportarmi no ci vorrebbe un supporto per questo cellulare direttore fu marco muller se riuscisse ecco giuria formata da katron denev gesui katron denev bigas luna quello di la teta e la luna dice mai bello quella di ituma ma tambien quei due attori svezzate da lei sverginatesi diego luna e gregas e bernal michele placido per catturare la piovra che metaforicamente la mafia ci vuole un uomo malato di placidità oppure sa michele michele placido park chabuc quello di old boy non il remake di speck lee con josh brolin comunque il sin city uno due spacca tutto dicevo paolo branco c'è anche il film il branco chulpan kamalova cameron crow questo più che cameron crow non sembra cioè cameron crow è oscar wilde in poche parole è lui è uguale me pare oscar wilde quello delle mie prigioni no quello è silvio pellico non ovunque carlo carlei la fuga la fuga quello dell'innocente giuseppe genna non confondere con vera gemma la figlia buona di giuliano gemma che non c'è sta più cosa cabe che cibo paolo wagner si questa è la direttrice d'orchestra ecco perché barbera ieri ha detto questo film con che blanchett lei è una direttura d'orchestra non si può dire direttrice direttore direttori ricordate cos'è tu mi turbi roberto benigni direttori stefania rocca viola basso a tutti quasi argento non era viola lì diventava tutto rosso per gli uomini io sono veramente il mostro da roberto benigni no c'era anche giliemo del toro prima di the shape of water lì alla mostra internazionale il mostro della laguna non sapete niente la forma dell'acqua sì perché quando voglio vado da una donna lei mi guarda questo sembra uno scemo poi io sfodero questa cosa un po' così molto caliente e lì c'è il vaiont una diga sì io quando mi rego a questi bar mi capita di parlare delle donne no sono tipo taciturno ma se parlassi chiamerebbero le pompe funebri no la disinfestazione no no quelli che chiamano quando si allagano le cantine perché queste belle topolecine in cantina nelle cantine ci sono i vini e ci sono le soccolo è chiaro allora david lynch david lynch sta eccolo guardate questo questo è pazzo è uguale qui laura del che si incanta che guarda comunque volevo trovarvi questo film che a me non dispiaccio affatto acque acque accolino in bocca fuoco fuoco cammina come fuoco fuocarello sono un fantasma di bob poi in questa edizione fu presentato il film bobby e c'era già vedete the fountain la fonte quindi non è la fontana di dare aronosch osterge ma ci sarà il festival quello lì matiosch non può essere invitato io scrivo per da roma da roma sono quelle bamboline invece le matriosche sono questo matiosch è un bambino dai basta io sono superman quando lo voglio sì perché io sono io ricordate la teoria dei supereroi di superman David Carradine e Kill Bill come hai fatto a trovarmi io sono io ecco Children of Men i figli degli uomini di Alfonso Cuaron con un pezzo da fegon che è Julien Moore ecco non è vero che io fui cieco come Daredevil che non mi piacciono le donne come Jennifer Garner o Jennifer Lopez o Anna de Arbas io potrei essere il nuovo Ben Affleck colui che scrisse la sceneggiatura si ma Mad Demon di Will Hunting genio ribelle ora di Ben Affleck è stato il peggior supereroe di tutti i tempi nei panni di Daredevil no di Batman ma è stato anche Superman questo doveva essere Superman invece qui fu presentato questo film di Neil Labute quello di Nella società degli uomini ve lo consiglio perché c'è una scena con Bestieller e Annie Brenneman l'amante di De Niro in Hit Last Feeder Hit Calore che si vede uomini questo è un remake vedete che Nicolas Cage non assomiglia a Christopher Lee The Wicker Man no dicevo Hollywood Hollywood Bianca è uno libro lo potete trovare sulle maggiori catene librarie online un libro che ha venduto tre copie ma tre copie giuste e importanti copie coi controcazzi allora dov'è? è stato anche Superman sì sì è vero se lo trovassi questo film scusate perché facciamo così questo è il metodo antico da uomo antiquato uomo falotico uomo strampalato uomo visionario uomo che vi augura come Enrico Gates di Fuori Orario film di Martin Scorsese c'era Hogwarts con Griffin da non confondere con Grissinborn sì i deliri di Ghezzi sempre fuori sincrono adesso soffre del morbo di Parkinson buona visione ok c'era anche Oliver Storm di nuovo Cage World Trade Center no non si presentò per nessuno dei dei due film si presentò per Mest Mere Mere è il plurale di Mere che doveva essere Superman no? di Tim Burton il genio della truffa e poi con Cattivo Tenente c'è anche una foto la potete trovare su Zimbio.com digitate Bad Illusioned percol New Orleans mi si vede con la videocamera se avete occhio fatemi pure il malocchio allora scusate dove sta? c'erano tantissimi film però poi c'era Paul Verhoeven con il libro nero Black Book Zwarbocchi e poi chi c'era? e c'è il famoso beh che tutti voi uomini di cultura sapete scrivere Apicciatpong Verasetakul quello dello zio Boomer non è il Boomer non è lo zio Bo-Bo-Bo Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo Emilio Estevez Bobby già vi disse ieri l'ho appena detto poi abbiamo anche Bobby Solo Bobby De Niro il nomignolo eccolo qua che fine ha fatto questo regista Alvin Kulture vedete Kulture è il francese di cultura sarà Adrian Brody quest'anno Aaron Brody Hollywoodland e qui c'è la moglie Aaron Brody di Josh Brody Lea Lane allora vinse la Coppa Volpi ma non fu candidato all'Oscar nessuno cita ben altro che nel ruolo di Super allora Sinossi Synopsis Synopsis giugno 1959 la rutilante Tinseltown si spegne per sempre per la torre George Reeves ma è ispirato Christopher Reeves il Super Richard Horner poi c'è Henry Cavill allora dicevo e poi quell'altro Superman fa schifo c'è quell'ex Luthor che avevi spessi ma quel Superman lì non aveva interpretato una serie TV e lui non è lui ha fatto anche di La Dog L'eroico uomo d'acciaio della serie televisiva è l'avventura di Superman morto nella sua casa sulle colline di Hollywood stroncato da una ferita d'arma da fuoco Reeves lascia la fidanzata l'aspirante salette Leonor Lemon e lì Lemonave Debrut e cantava anche quella canzone Lemon Tree dai tremo Lemon e milioni di fa sconvolti della sua scomparsa invece sono riapparsi e tutti oddio chiamate l'ambulanza ma la madre allora diciamo volevo trovarvi il pezzo in inglese dov'è? ok tutti noi abbiamo diciamo la nostra versione diciamo we all have our own version of the desire for sternum diciamo it's a place on all of the boulevard or it's a walk of fame or something much more private io sono un investigatore private diciamo sono un uomo adesso non più deprivato di se stesso e scriverò il commissario anzi l'ho già scritto è chiaro lo pubblicherò presto private and how we deal with it can shape our e qui lo spelling superman our lives lives o lives no? l-i-v-i-s superman lives ok for good or ill there's something essentially tragic about this this cool now cool è c-o-o-l questo è lo spedio cool o cool senza la finale cool apostrofo allora this cult of celebrity will live live life questo è il mio stile di vita quando pensi che sia finita è proprio allora che è finita una disgrazio what? siccome la morte tragica di questo attore e che cosa dice il grande David Carradine a Uma Thurman? lo sapete prima di morire che cosa le dice? insomma sostanzialmente le dà della puttana cioè della zocco e poi lei a proposito di supereroi era un supereroe quello lì che è il guerriero sì sì della scuola di ideonicata no occulto occulto? io sono esperto anche dell'occulto sa? io non occulto niente che va occultato e scoppia cosa? questo it se vogliamo diciamo it il pagliaccio la un pericolo o i i men no li bene temeno e i man che stava con David Bowie anche se lui stava con tutti ecco tutte dicevo dicevo it exploders on her face sì sono le descrizioni delle recensioni ci sono anche le recensioni le reviews stasera dei porn americani esso nel senso del membro oppure che maschile non può essere femminile o i exploders on her face s non è plurale altrimenti avremmo dovuto dire on faces chiaro? quindi facce da culo o he exploders on her amazing ass cioè sul suo culo meraviglioso queste sono le descrizioni di porno movie americani nel prossimo mio libro citerò che c'entra citerò anche Boogie Nights diceva Julie Moore ettergram from hell la vera storia di Jack lo squartatore con Johnny Depp nel video che sto renderizzando Finding Neverland Kate Winslet B di Johnny Depp questo film dei fratelli Hughes che vi posso dire io? che cosa sarei? Hughes Leonardo Di Caprio di Aviator che sembra un po' a proposito David Bowie c'è nell'ultima tentazione di Cristo sembra un po' Will and the Four Scorsese non ci sarà anzi forse il film non uscirà anzi sicuramente non è un rumor l'ha detto Deadline sarà presentato a caldo 2023 siede un po' arretrati dovete aggiornarvi no? scusate se soffrite di un grosso ritardo mi è ritardatario Tarantino Jackie Brown Bridget Fonda e tu vecchietto trombone boomer si è rimasto quelle frasi da nonnetto abbiote caprese sfonda quello lì 3 ascelle cappella e vai poi c'è un altro che mette dei video che ho visto cabricciato questo paga le ragazze per farsi il video per ottenere la monetizzazione le visualizzazioni scrive ho rimorchiato tre fighe in tre ore in tre orge no cioè poi questo qua che basta parlato un po' meridionale adesso vi faccio vedere poi bacio ste qua limona mi siete ridotti così io amo David Cronenberg ho David Lynch anche perché mia nonna di cognome faceva David da cui David e Golia ora dicevo lo so io faccio gola a molte persone che vorrebbero massacrarmi così come avviene con James Franco in quel film che fu presentato a Venezia fu candidato anche all'Oscar in the Valley of Hilaire a proposito di Hilaire Hilaire Wollach del buono, il brutto e il cattivo e qui ci vuole il doppiaggio da Enrico Maria Salerno di Clint Eastwood e non di Eli quando si spara si spara non si parla quindi c'era una volta il West per un pugno di dollari al cuore Ramona al cuore Gian Maria Volontè l'Indio i miei indiani Killers of the Flower Moon e ci sarò io a Venezia cioè una volta all living io ci sarò vi farò grazie a tutti